Un sit-in di protesta contro il Comune di Pesaro per chiedere l'esenzione dalle tasse comunali, come avvenuto per altre categorie. Scendono in piazza le agenzie di viaggio pesaresi che questa mattina si sono riunite sotto il Palazzo Comunale con l'intento di consegnare al Sindaco Matteo Ricci i dati relativi alle vendite e alle partenze 2020, che a causa del Covid sono calate del 90%, a dichiararlo una rappresentanza delle agenzie viaggio pesaresi presenti alla manifestazione che non ha digerito la scelta dell'amministrazione comunale di indire un bando che consente alle nuove imprese di non pagare le tasse comunali per tre anni dal momento dell'apertura. Una protesta che il Sindaco Ricci non ha gradito e che secondo lui non ha ragione di esistere dal momento che è intervenuto il primo cittadino. Fino ad ora abbiamo sempre ascoltato tutte le categorie e ragionato per trovare delle soluzioni, da qui la scelta di convocarli in Comune lunedì prossimo alle 15. E non è giusto che il Comune esca il 7 di ottobre con un bando dove appunto esenta di tutte le tasse, un bando peraltro scaduto il 20 di settembre e non risponda a noi agenzie di viaggio che siamo fermi da mesi e abbiamo i fatturati in calo dall'85 al 90%. Speriamo solo di avere un'esenzione che è una cosa simbolica perché con le perdite che abbiamo è una cosa prettamente simbolica, però di avere comunque il Comune vicino e di sentirci rispettati e non presi in giro da queste cose, da questi bandi pubblicitari. Oltre ad essere stati dimenticati dallo Stato, dalla Regione e adesso anche dal Comune abbiamo chiesto più volte di essere ascoltati ma non ci è stato concesso, visto che le frontiere non ci sono state riaperte, non lavoriamo, ci vengono comunque richieste delle tasse che a questo punto non abbiamo con cosa pagarle, non abbiamo più i soldi. Dal Comune ci aspettavamo sinceramente un approccio diverso e una comprensione diversa, non spostarci dei pagamenti perché non ci serve a niente a questo punto.